Anna Tatangelo è stata ospite della regina della tv Mara Venier. La bellissima cantante di Sora si è confidata con la padrona di casa di Domenica in, lasciandosi andare ad un racconto molto intimo della sua vita privata. Anna Tatangelo, la fama e il periodo difficile. La 35enne, dopo aver visto un video di esordio della sua carriera, ha confessato con occhi lucidi di aver trascorso un periodo non proprio semplice, coinciso proprio con l'esplosione della sua popolarità. Anna ha infatti detto di essersi sentita molto sola e disorientata all'inizio della sua carriera e di aver fatto fatica a reggere i chiacchiericci di cui è stata spesso protagonista. Oggi ci sono i social e gli haters ha sottolineato ai tempi, invece, c'era una parte di giornalisti che mi andava contro. Era molto più interessata alla mia vita privata che alla musica. Questo mi ha fatto stare male. Mi sono sentita molto sola. Avevo 19 anni. Ero piccola. Oggi mamma e donna in carriera dopo la fine del matrimonio con Gigi D'Alessio. Per fortuna gli amari ricordi sono un lontano passato. Oggi la Tatangelo è una mamma felice. Ma soprattutto un'artista molto amata. Una donna apprezzata e stimata. Nel corso dell'intervista si è anche lasciata andare a delle dichiarazioni sul suo ex marito Gigi D'Alessio, padre di suo figlio Andrea, devo molto a Gigi, lo ringrazierò sempre. I due si sono separati ormai da anni, ma continuano ad avere un rapporto pacato e sereno.